eccoci a milanello che devo dire quello che faremo qui allora qua ci facciamo un ipermercato monomarca con tutti i brand più importanti tra cui standard qua ci facciamo un campetto per i pulcini del milan caccia caccia un parcheggino vai qua ci facciamo un saluto stradale per essere attenzialmente alla città antispana che pensiamo di preparare entro il 2011 2012 ciao mamma un saluto alla brianza ciao mamma rosa